ciao a tutti ragazzi con la calma in bocca noi iniziamo continuiamo la nostra avventura vedremo di buttarci avanti con il materiale con le medicine di torta, le merendine e le bibite e qua abbiamo un po' di alcol per rifestire mini bar e mini bar esatto mini bar ma non puoi fare il gancho proprio alla tenda lì? non mi conviene perché se mi salgono gli indigeni loro non riescono a saltare davvero? ah quindi è una roba furba? si ma ti possono salire gli indigeni? si sono già saliti una volta aspetta lì a sinistra cosa c'è? questo qua è per poter lascio i materiali che figo ma è stra figo la scelsora cioè addirittura non devi niente allora una cosa dovevamo fare è cambiare quello la con... anche adesso è rotto no no guardali infami sono già arrivati vabbè è normale che questa caramella stracida praticamente dobbiamo prendere la stessa... aspettate un attimo... dobbiamo riprendere la stessa struttura guarda che nel nostro episodio non ho visto niente cioè io che guardo episodi abbiamo visto solo a casa prende la stessa struttura ok e poi portarla all'incontrare fin di là perché io portandola da qua alla... l'ho messa all'incontrare devo portarla dalla fine a dove voglio arrivare ho detto... disarmo le piume allora poi come vedete qua io ho un'armatura inquietante che è di un boss che ho ammazzato la sera scorsa quello che si è affogato? no no no... mi aspettavo sotto casa mia... buongiorno! è un boss? festini di prima mattina? è un boss? no, è un rompibaglia ma va via tanto non ne ne frega... si ma... ne ne frega ma è che sennò mi accoppano è che io vuoi? è che io vuoi? è che io vuoi? è che io vuoi? è calmini vado nell'acqua voi non sapete notare morirete tutti comunque... allora non è una buona idea entra... eh? nuova voce aggiunta alle liste le cose da fare cos'è? magari non si vede... ma c'è... non è una torcia... no, questo però io... ma buonasera! vi siete spaventati? non è una torcia... non è una torcia... è più agile! è più grande eh? è agilissimo guarda benissimo... ho un dente... ho un vento... è vero della luce? si... che bello! soldi! sono ricco zio... uno è il metto! prendilo! non puoi metterlo? no, non me lo dà... che bello! arti, gambe... cos'è? vestiti... eh... come ci sono finiti dei servizi dell'aereo qua... vengono rubati i indigeni? no... sognavo da tempo di trovare questa roba con tutti i vestiti... e così almeno posso farmi una buona scorta... hai detto che non li vuolevi niente... no, ma questi sono le stracce... quelli straccetti quelli... ah... che forte è! cavolo! è fortissimo! eh... ahahah... che è? se devi sopravvivere non diventi forse tutto e spacchi le pietre con una lancia... in legno... no? si... lo fanno tutti però... ha lanciato un braccio... ti ha dato una mano... mi dai... mi dai una mano... ecco però qua... questa roba... ti do una mano... sei contento di essere venuto qua? si... abbastanza... ehm... come sai che fai a sapere dove stai andando adesso? infatti sto andando letteralmente a casa... si ho visto... sarebbe una roba buona perchè qua spawnano una volta... cioè non hai tutti i rider... solo che... per i materiali sei strass vantaggiato... ma scusa c'è basta alla fine... tipo l'entrata fai che hai l'increspatura no? eh... eh... ma non riesci a portarli dentro da nitron... devi portarli dentro da voragine... comunque noi siamo... che voragine? ah... siamo collegati... alla... alla cosa? la voragine? questa qua è quella dove abbiamo trovato la mappa dove siamo spawnati prima... e qua sopra c'è la katana... ma... quindi? ce l'hai un progetto di fare... ce l'hai un progetto di fare la casa qua? potrei fare delle basi di sopravvivenza momentanea... uh... snack... cos'è un progetto? cosa c'ho trovato? la testa... perchè raccogliere... questo qua è fissato per raccogliere la testa... mi sembra un oggetto qui... lì sopra cos'è cos'è? cos'è? sticchettine... hai buttato via uno? ah... perchè non a me ci stanno più... ti mortacci tu qua... qua ancora so che qua ci sono degli stick... mi sembra una frega dei stick no? che vuoi? ma lì mi sa che stanno... questo qua è pure armato... lì che brutto che c'è... cioè non durano niente questi... con dei colpi lo ammazzi... con dei colpi... allora... eh lì? cosa c'è il lengo? spaccala... no perchè adesso mi... c'è anche questa che mi fa venire inquietudine vero? cioè... hd! zutto io te l'ho detto... ma qua dovrebbe esserci la famosa tessera... no? che tessera? anche quella per entrare... aspetta un attimo... facciate una roba... facciate una roba del genere! si vuole andare fuori caro... dove? no dirà no... non può uscire... perchè? perchè non è sterilizzato... ah se non è sterilizzato? ah e non vogliamo avere cattivi... e poi deve essere ancora... guarda che figata! hai sentito che fammiamo? si ma perchè anche allora... si quanti anni ha? 5 e 6 mesi... 5 mesi ha? si... allora non può? un po' riprodurse... appunto... e allora? no ma entrano... entrano presto... dimmi ci qua... si vabbè... le piccine... si ma non si sa mai... allora qua dovrei trovare la motosegna in via... qua dovrei trovare la motosegna in via... qua dovrei trovare la motosegna... aspetta fammi... dammi la lancia... dammi la lancia... non mi sento sicuro... voglio la portare la lancia... si... più che altro le posso tenere a distanza... dovrebbe esserci una motosegna qua qua qua... quanto rompi questi? no non dirmi se sono tornato dove ero prima... e mi sa proprio di si... si... allora aspetta... allora... io dovevo andare di qua... ma quando ho imparato a miagolare? ah ecco dov'è che devo scendere... non ho imparato a miagolare... ah no lo so... la sola? si... cosa c'era qua? una torcia... che scassa tanto... zio... ho trovato qualcosa... guardate là... è un'uscita... ti ho messo sul... sul letto... sul letto... allora ho trovato un'uscita di qua eh... ah... devo per forza andare giù di qua... ma io non c'ho voglia... accenditi... corde, corde, corde... cosa hai trovato? cosa c'è qua? che... no... non c'è niente di qua... cioè tutta... hai visto cosa c'era dietro la porta? una corda... che non posso neanche portare... ma tu puoi neanche andare al su? no... ho ammazzato un pipistrello... guarda... faccio strase... non mi dà niente però... comunque dovrebbe esserci una roba che va giù qua... eh... mi sono incastrato... allora... ok... qua c'è la zona quella buona... eh... Joseph? ho trovato molto secco... no... boss? no no... guarda che si fermano... cosa vuoi io questo qua? recupera l'energia... e qua... sono parti... ok... ma si fermano a pregare ogni tanto... vedi... si inginocchiano... vedi... si fermano a pregare... tipo... non so cosa... oh... devastante sta mazza... sta giù... oh ma non muoira... sta giù... sta giù... sta giù... qui... ho fatto la testa... quella di qua... o l'ho tolta? no... l'ho tolta... l'ho tolta... the forest night... the forest night... finisce qua... siamo la prossima volta... a continuare a scuola... alla grotta... moriremo alla venta... comunque... grazie per la caramellina... e... lasciate commenti... commentate... iscrivetevi... non... 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 non...